Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo saggio della Scuola di Musica del Garda. Vi presentiamo oggi la classe di chitarra del nostro super maestro Antonio D'Alessandro. Bene, per l'occasione ho invitato anche un amico ad assistere a questo saggio. Vieni, vieni pure, c'è un posto qua davanti. Ecco, benissimo, siamo a distanza di sicurezza. Bene, quindi godiamoci questo saggio, quindi da parte mia e da parte di Franz vi auguriamo un buon ascolto. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!